Con il Rettore Arello Tammasetti oggi siamo qui all'UNISA per la presentazione di un nuovo servizio per la disabilità. Bene Rettore, che spunti possiamo trarre dalla giornata di oggi? La nostra Università ha investito ed investirà moltissimo sul settore della disabilità. Investe energie negli uffici e nel delegato alla disabilità che da sempre si sono fatti carico di portare avanti ogni iniziativa per rendere le condizioni migliori di accessibilità a tutti i nostri studenti, più complessivamente a tutti gli utenti del nostro campus. Negli anni a venire faremo dei grossi investimenti per rendere il nostro campus totalmente accessibile perché questo è un impegno innanzitutto civile che l'Ateneto deve portare avanti e quindi in questo senso parte del Rettore nella convinzione che noi abbiamo solo doveri nei confronti di chi è in condizioni di maggiore difficoltà e quindi sono gli studenti a cui teniamo di più e chiaramente anche alle famiglie perché poi dietro a ogni studente c'è una famiglia che vuole che i propri figli possano avere un percorso di tipo università. Quindi benvenga ogni iniziativa che possa creare condizioni migliori da questo punto di vista per far frequentare e rendere il percorso universitario il più agevole possibile. Con la professoressa Savarese, delegato del Rettore alla disabilità, e con la professoressa Bucciarelli dell'associazione Iris, oggi abbiamo discusso di tecnologie inclusive per la comunicazione in tempo reale. Di cosa si tratta? Ce lo dirà sicuramente la professoressa Bucciarelli meglio di me. Per quello che riguarda noi abbiamo attivato questa collaborazione con l'associazione Iris che ci tengo a sottolineare è una collaborazione assolutamente gratuita che l'associazione ci darà per il sostegno di nuovi linguaggi come misure compensative sia per i nostri ragazzi con disabilità che con DSA. Dalla LIS all'utilizzo di linguaggi informatici a distanza che possono supplire una serie di difficoltà che i nostri studenti possono avere. Ovviamente è una collaborazione che parte oggi e che avrà una durata di molti anni in modo tale che anche le nuove esigenze dei nuovi studenti possano essere soddisfatte. Poi sicuramente gli esperti sono loro e quindi lascerei la parola alla professoressa Bucciarelli. L'associazione Iris è sorta proprio per studiare le esigenze della disabilità. Sono entrata nel mondo della disabilità, sarò molto sintetica perché mi interessa dei linguaggi sintetici. Sono entrata nel mondo della disabilità e ho intuito i problemi. Da linguista ho cercato di capire i problemi del linguaggio. Quindi la società è formata da un gruppo di esperti che occupano una posizionalità nel mondo del lavoro e che vogliono donare le loro competenze altamente specialistiche per le persone che hanno problemi di comunicazione. Che significa comunicazione in tempo reale? Niente, sono strumenti compensativi nuovissimi di generazione planetaria. Non sono ancora in commercio, che però hanno il pregio di sopperire alle problematiche. Parlo del disabile, del DS, il disabile sensoriale, soprattutto il disabile sensoriale che ha problemi di comunicazione. Quindi parliamo di tecnologie di comunicazione e quindi parliamo di sopperire ai problemi fonetici, linguistici e strumentali che sono idonei per il disabile, per il disorientato percentivo, per il DSA, sopperire a queste sue carenze attraverso strumenti tecnologici, fonologici, corpus linguistici, corpus di riformulazione. Sto parlando di cose veramente uniche perché noi abbiamo euristicamente studiato sul campo sia l'Europa è più avanzata, quindi siamo in collegamento con la Germania, io lavoro con Ratman che è il direttore del dipartimento del DS Slim 1, parlo in acronimi, che è un zurdo. Quindi noi comunichiamo attraverso il codice ufficiale della lingua dei segni, ci comprendiamo tranquillamente quindi sono più avanzati e ci hanno insegnato tante cose. In Italia siamo un poco più indietro però noi abbiamo prevaricato i tempi e siamo in grado di fornire questi strumenti e cerchiamo, vede, le nostre elevi, i nostri soci, diciamo i nostri aggregati, sono giovanissimi che hanno determinate competenze, c'è ognuno per il suo ramo, c'è il linguista, noi doniamo addirittura riformulatore testo e quindi il ragazzo deve essere aiutato proprio nella formulazione del testo il disabile sensore era questo che mi scusi, mi dilungo però purtroppo vorrei dire tante cose sono molto emozionata perché ritorno nella mia città e con i contenuti che ho desiderato nella mia vita è un grazie particolare, lo dobbiamo, questo anche meno nominalmente lo devo dire, all'ingegnere Terrone perché presenta la Sidelmed, la sua società però ci sopperisce economicamente quando abbiamo bisogno perché noi cerchiamo noi stessi di essere autonomi. Dottori, oggi siamo stati qui per discutere della tecnologia inclusive per la facilitazione della comunicazione in tempo reale da parte dei disabili, nel dettaglio di cosa si tratta? Io all'interno di Sidelmed che è la società che oggi sponsorizza questo progetto e ci tengo a sottolineare in modo completamente senza fine di lucro, io mi occupo per consulenze del progetto che la professoressa Bucciarelli ha voluto portare avanti dal punto di vista linguistico mentre dal punto di vista informatico del punto di vista tecnico ho una personale partecipazione, mi occupo di tutt'altro, io lavoro nell'abito della telefonia mobile mi occupo in particolare del gruppo tecnico di poste mobile e di real time, quindi di comunicazione in tempo reale ovviamente abbiamo le ampie competenze per poter supportare poi questa tipologia di progettazione quindi oggi noi andremo a presentare un prototipo, un esperimento prototipale basato ovviamente sulle conoscenze linguistiche della professoressa Bucciarelli, più tardi ci sarà anche l'intervento della professoressa Terrone che mostrerà su quale base dati tecnicamente è basato questo progetto ebbene faremo vedere come è possibile utilizzare chiaramente in forma prototipale una nuova tecnologia che basandosi sulle forme acronime della professoressa Bucciarelli e sulla forma linguistica porti la tecnologia a potersi avvantaggiare di queste conoscenze, di questa esperienza quindi in sostanza oggi noi andremo a misurare lo stato di avanzamento, lo stato dell'arte nel campo del BES e del DSA dal punto di vista tecnologico ci tengo a sottolineare purtroppo per noi che negli anni che si sono susseguiti ormai si può dire vent'anni in cui si è avuto un progresso nell'ambito del BES e del DSA del riconoscimento di fare e di voler apporre tecnologia per migliorare le qualità dal punto di vista sensoriale, cognitive, ai fini della disabilità ebbene noi mostreremo che nonostante questo c'è ancora una certa resistenza a poter introdurre le tecnologie nell'ambito di questa problematica speriamo con il nostro progetto di sensibilizzare e di dare risposta a questa problematica Nell'ambito del progetto che presentiamo oggi anche il contributo del Dottor Terrone è importante che c'è una sinergia importante con l'associazione Iris ci vuole aggiungere qualcosa in merito? Praticamente oggi con l'avvento anche del Rettore nella mia mente si è focalizzata una cosa molto bella e cioè la presenza dell'università sul territorio che si lega alle aziende sia per quanto riguarda il futuro degli allievi, degli studenti sia per quanto riguarda progetti umanitari e quindi le aziende, l'università e chi praticamente fa realmente cultura a costo zero la professoressa Bucciarelli io sono contento di affiancarla e di dare il meglio della nostra azienda perché la nostra azienda oltre che un'azienda in ASPA che fa economia ma fa anche beneficenze io sono chi l'ha inventata circa 20 anni fa siamo partiti da questo territorio Mercato San Zerrino, provincia di Solano per arrivare a Legnano, Milano, Firenze, Roma e in qualsiasi parte si parla sia degli impegni e dei progetti economici, business e sia dall'altro lato degli aspetti legati alla beneficenza noi non facciamo solo Vicenza per quanto riguarda questi progetti ma tanti altri progetti che sembrerei prolisso a citarli adesso davanti a una telecamera quello che ci tengo invece è che pur essendo un ingegnere meccanico figlio di questa terra lavorato a me da Federico II di Napoli circa 30 anni fa mi occupo anche di poesie a certi livelli e anche la poesia come vedremo da questo incontro oggi serve molto a comunicare anche attraverso le tecnologie e a saper fare dell'intelletto umano